Ben ritrovati ospiti di speciale Telesveva verso le elezioni, candidati del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Andria, il Partito Democratico è una delle sei liste che sostiene come candidato sindaco il professor Sabino Fortunato, come sapete Andria insieme a Trani è uno dei comuni che rinnoverà il Consiglio Comunale il 31 di maggio in concomitanza con il voto delle regionali. Con loro faremo un attimo il punto della situazione della campagna elettorale guardandolo proprio da quella che è la prospettiva dei candidati al Comune. Sotto questo aspetto io parto dal dottor Greener perché innanzitutto che campagna elettorale state vivendo rispetto ad esempio a cinque anni fa? Innanzitutto abbiamo da spiegare alla gente, ma ormai l'hanno percepito pienamente, i grandi problemi e i grandi danni che sta facendo e ha fatto questa amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Giorgino in questi anni. Ci ritroviamo dopo cinque anni una città in uno stato confusionale perché è mancata nell'idea politica di questa amministrazione un'idea di fondo o una programmazione di questa città. Abbiamo avuto e abbiamo assistito soltanto ad una serie e a un susseguirsi di questioni straordinarie che hanno interessato la nostra città e mancata quindi una programmazione che potesse dare ordine alla nostra città. E questa cosa la possiamo analizzare, verificare in qualsiasi ambito della nostra città, sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto sociale, culturale, finanziario. Poi questioni che hanno chiaramente sono poi arrivate alla cronaca purtroppo giudiziaria hanno contribuito soltanto a dare un'ulteriore spallata ad un'immagine ormai offuscata di questa città perché il sindaco ha puntato soltanto sulla sua persona, non ha voluto fare squadra politica, da un punto di vista chiaramente politico, squadra non soltanto con quella che potrebbe essere una sua maggioranza perché squadra si fa anche con i partiti di opposizione, con i partiti importanti come il partito democratico all'interno di una città perché soltanto con una visione generale e con una visione condivisa una città può realmente crescere e può diventare protagonista di un territorio perché una città di 100.000 abitanti non può essere mortificata da vicende e questioni giudiziarie richiamate quotidianamente sui mezzi di comunicazione. Questo la gente l'ha percepito, abbiamo e stiamo raccogliendo un giudizio negativo sull'amministrazione Giorgino che il nostro sindaco voglia dire altro, ormai la gente non viene più alettata dal taglio dei nastri o da spot elettorali, la gente ha bisogno di vedere cose realizzate concretamente. Questa amministrazione ha puntato unicamente sulle opere pubbliche, opere pubbliche come possiamo ben notare girando per la nostra città sono per la maggior parte ferme, quindi sono soltanto state canterizzate e come anche l'ultima del quartiere Fornaci non è ancora conclusa, ma pur di apparire il nostro sindaco ha ritenuto opportuno inaugurarla e si è dimenticato invece di lavorare innanzitutto su un tessuto sociale oramai disgregato, la crisi economica, le povertà sono aumentate notevolmente, la disoccupazione è dilagante nella nostra città e non si è voluto per niente intervenire sulle leve economiche poi della nostra città che potevano essere quelle che mettevano in moto un meccanismo virtuoso ai fini non soltanto economici ma anche sociali e lavorativi. Sulla questione però dei lavori pubblici, il Partito Democratico e comunque tutta la coalizione del professor Fortunato ha polemizzato non poco, cioè sui lavori ripresi in periodo elettorale, sui tagli di nastri. Sì, tanto grazie dell'invito, sì questa è una domanda che ci tengo in particolar modo a rispondere, sì effettivamente proprio ieri sera abbiamo avuto un incontro con una categoria importantissima, parlo di categorie economiche della nostra città, ex fiore all'occhiello della nostra città, appunto il mercato otto frutticolo, si parlava proprio di un'opera incompiuta. L'aspetto positivo di questo è che gli operatori, i commissionari che all'interno del mercato otto frutticolo oggi operano in condizioni, io non dico, quello che posso dire può essere travisato perché in campagna elettorale uno può dire quello che vuole solo per consensi o per altro, invece io invito tutti a farsi una passeggiata al mercato otto frutticolo così può guardare direttamente la situazione. L'aspetto positivo è che questo questi operatori arrabbiati ma anche propositivi mi hanno detto noi vogliamo investire, vogliamo mettere dei soldi, si parlava addirittura di quote di 50 mila euro a imprenditore, dico ma scusatemi fatemi capire, abbiamo il matatoio nuovo che praticamente credo in area a 7-800 metri dal mercato generale in via vecchia barletta che in abbandono, dico come? Io chiaramente da cittadino in politica, la politica mi è sempre piaciuta, l'ho sempre guardata, adesso sto entrando un po' più nel merito per cui sono nuovo e voglio capire meglio, sono andato, l'ho guardato, l'ho visto, ho guardato gli spazi ed è un'opera imponente. Un'opera che è stata realizzata con dei fondi comunitari, tra l'altro dei vincoli anche scaduti, ma ne abbandono, credo che ci sia la misericordia che occupa pochissimo spazio, ma un'opera che loro vorrebbero... Sì, la stessa cosa è accaduta con il macello di barletta, cioè a un certo punto diciamo non valeva la pena per i costi economici. Perfetto, quindi allora che cosa... Adesso forse a barletta ci vanno i pompieri. La sede provinciale di Vigio Poccavistro. Allora, abbiamo discusso su questo, con il professor Fortunato, il nostro candidato sindaco del partito, abbiamo deciso di approfondire e mettere questa loro esigenza come priorità di programma, perché come ben si sa non è che abbiamo la possibilità di fare tutto e non abbiamo neanche la bacchetta magica, però abbiamo messo come priorità l'aspetto mercato ortofrutticolo. Io credo che cambiandone la destinazione, chiaramente seguendo un attimino quelle che sono poi gli iter burocratici, quella può essere una struttura che uno sia più idonea al settore, sia idonea a un incremento lavorativo, perché si parlava di 200-300 unità lavorativi in più, che gli impiettori stessi assumerebbero nel momento in cui si potesse poi trasferire ogni singolo operatore, ma soprattutto anche togliere dalla città, dal centro della città, perché via Barletta, in concomitanza con via Ferrucci siamo al centro della città, tir di 25 metri che circolano intorno a quell'area, tra pericoli per la cittadinanza, smog e operatori che chiaramente ogni mattina sono costretti ad alzarsi prima, perché se no si creano congestioni di traffico, insomma tutto questo ne va solo a beneficio di una categoria che ripeto non è seconda a nessuno, noi mercato ortofrutticolo, forse qualcuno se lo ricorderà, è il nostro fiore all'occhiello di tutto il nord barese. Nel frattempo ci ha raggiunto anche un altro candidato al comune del Partito Democratico, il dottor Giovanni Vurchio. Allora vuole concludere Traviano? Sì, concludendo appunto sulla domanda opere pubbliche, mi chiedo, no? Io ho inaugurato in passato aziende, ho inaugurato anche di famiglia, abbiamo inaugurato locali, abbiamo inaugurato attività. Il paradosso è che le nostre inaugurazioni il giorno dopo erano operative, erano dei fiori all'occhiello, erano delle attività che quasi il giorno stesso erano già... Entravano in funzione. Entravano in funzione. Quello che non riesco a capire, e probabilmente qualcuno poi ce lo spiegherà, come mai si tagliano nastri, si inaugurano, l'ultima è stata quella di San Valentino, che mi è rimasta impressa, un'opera bellissima dal punto di vista scenografico, però chiusa. E quanto tempo resterà chiusa? Per quanti mesi o anni resterà chiusa? Quindi credo che ci sia proprio un problema di programmazione, probabilmente anche un problema di agibilità. Io credo che con la struttura ultima di San Valentino non abbia neanche l'impianto di climatizzazione. Io sfido chiunque oggi a programmare un'attività sportiva all'interno di una tensostruttura. In estate credo che si arrivi anche a 40 gradi, se non c'è un impianto di climatizzazione. Quindi io dico ai cittadini, attenzione, questi tagli di nastri vanno tutti in un'unica direzione, quella di mercanteggiare, accalappiare, cercare di quanto più possibile, in qualsiasi modo, consensi. Non servono assolutamente a nulla. Prima programmiamo come coalizione ciclosistra e poi realizziamo quello che dobbiamo fare e tagliamo i nastri ed essere operativi il giorno dopo. Questo è quello che la città, credo, vorrà. Allora, Marchio, Greener si è soffermato su quello che è l'umore della gente, diciamo, stando a quella che è naturalmente la vostra ottica. Ma secondo lei questa campagna elettorale su che cosa si gioca? Direttore, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui. Su che cosa si gioca la campagna elettorale? Io, riassumendo in due parole quello che dicevano gli amici del Partito Democratico, che cosa ci differenzia a noi dal centrodestra e quindi la gente lo sta percependo in maniera molto chiara. C'è chi fa la campagna elettorale dell'apparire e chi fa quella del fare. Io non ho una lunghissima esperienza politica. Io sono stato eletto la prima volta in Consiglio Comunale nell'amministrazione Zaccaro. Hai fatto due consigli a tutti. Due consigli a tutti. L'amministrazione Zaccaro e poi ho fatto questa dell'amministrazione Giorgino. Quella è stata la netta differenza. L'amministrazione Zaccaro è stata l'amministrazione del fare. Forse noi in quella cosa abbiamo avuto una pecca, non abbiamo avuto una grande comunicazione, non abbiamo saputo dimostrare alla gente tutto quello che abbiamo fatto. Invece l'amministrazione del sindaco Giorgino è stata quella dell'apparire. Io vi posso fare due o tre esempi e poi vado alla gente. Inaugurazione della villa comunale. Viene lino Banfi, c'è tanta gente, applausi. È una villa che ha costato un sacco di soldi. Programmata da noi in una maniera, rimodulata, costata di più. E poi non si è pensato a quello che è costata quella villa. Si è pensato che bisognava fare una grande manifestazione per inaugurarla. Si è chiamato lino Banfi. E questo voglio dire su tante altre cose. Per dire il back sharing dove è stato con grande pompa magna, non c'è una bicicletta lì. Cioè, questo ci distingue. Arriviamo alla sua domanda, la campagna elettorale. Secondo me la gente se ne è resa conto. Io sto girando i quartieri, sto cercando di incontrare più persone possibile. E la gente la vedo in questo momento che mentre inizialmente, per quello che è stato anche la fine dell'amministrazione Zaccaro, diciamo che ci siamo presentati con tre candidati sindaci, non è stata una bella immagine. Oggi ci presentiamo con un candidato sindaco, un candidato sindaco credibile. E la gente ci chiede quel cambiamento. La gente ci chiede di dare una svolta diversa. E la gente ci chiede di dare delle risposte diverse alle persone. Perché guardate, si sta vivendo un momento difficile. La nostra città non vive un bel momento. Non guardiamo la sera il centro storico pieno di gente o pieno di ragazzi. E anche là mi piacerebbe dire due parole sul centro storico. Una piazza inaugurata dal centro sinistra, chi sta qui con me se lo ricorda. Un centro storico ripulito su una determinata delibera fatta dal centro sinistra, che davamo i contributi alle facciate, noi prendiamo dei soldi dalle contravenzioni per farlo. E anche quello, voglio dire, non è quella l'Andrea. L'Andrea è quella delle periferie, l'Andrea è quella dell'edilizia che non funziona, l'Andrea è quella dove c'è crisi di lavoro, l'Andrea è quella che, e io lo tocco per mano giorno per giorno, la gente ci chiede veramente un tipo di politica diversa. E noi su quello ci dobbiamo impegnare. E anche la scelta del candidato sindaco, secondo me è stata una grande maturità del centro sinistra. Perché qua ci sono quattro candidati del Partito Democratico, che probabilmente tutti, tolgo mio, diciamo io voglio parlare di me stesso, ma tre di questi sicuramente potevano aspirare alla candidatura sindaco. È stata fatta una scelta diversa, si è presa in questo momento una persona che è una persona competente, una persona che dal punto di vista finanziario, poi l'amico Antonio dirà qualche cosa su quello, voglio dire, è una situazione disastrosa, una situazione in predissesto, l'abbiamo detto ieri, e noi abbiamo preso un professore universitario di diritto commerciale, che è la persona più adatta a leggere i conti. E abbiamo preso una persona che in questo momento ha unito tutto il centro sinistra, facendo anche un passo indietro alle personalità. Perché qui c'è Gianni che ha fatto le legislature, c'è Antonio che ha un'esperienza politica, c'è Gianni Troiano che si è affacciato alla politica, tutti potevano aspirare a guidare. Però il momento in cui ci siamo resi conto che una candidatura nostra poteva non essere la coesione di tutti, abbiamo scelto quella candidatura facendo dei passi indietro che univa tutti. Ed ecco, tornando alla vostra domanda, direttore, molto pertinente, il centro sinistra ci ha chiesto quello, non andate divisi, andate uniti, e noi gli abbiamo dato quella risposta. E penso che oggi chi vede questa trasmissione, dove avete tre candidati, quattro candidati, che a un certo punto si pongono il problema di guardare la città, di guardarla nei quartieri, di guardarla nelle strade periferiche, di guardarla anche nelle campagne. Perché guardate, le campagne di Andrea sono decantate da tutta l'Italia, perché gli alberi di Ulivo, che quando la gente viene la salutano come un mare, sono bellissimi, ma vedere gli sporchi di mondezia è brutto. Per poi non parlare di un'altra cosa, voglio dire, poi chiudo perché forse sto prendendo troppo tempo, di parlare dell'ambiente, cioè la BAT, voglio dire, i danni fatti dai sindaci del centro-destra, scusi l'Apsus, sono stati danni bestiali. Noi siamo quelli, voglio dire, che siamo la città e la provincia, forse che avrebbe più bisogno di una politica ambientale diversa, sotto tutti i punti di vista. Va bene, questo magari poi lo approfondiamo. Vurchio, lei è stato tra i candidati, gli esponenti politici più polemico su una delle questioni più dibattute di questa campagna elettorale, che è la condizione delle periferie, dove ci troviamo di fronte a due tesi diverse e contrapposte. Il sindaco Giorgino è stato ospite, nostro ospite, in questi giorni e sulla questione delle periferie ha fatto un elenco di opere realizzate, di trasformazioni che ci sono state in questi anni. Lei invece su questo è sempre stato molto polemico. Grazie e chiedo scusa per il ritardo. Io avevo in mente come obiettivo di parlare di quello che può essere il programma del professor Fortunato e quindi della coalizione di centro-sinistra e non parlare di Giorgino, perché di Giorgino io parlo tutti i giorni alla gente che incontro, agli quartieri, alle associazioni e la gente parla anche tra di loro. Per cui parlare di Giorgino per me è come parlare del nulla oggi. e siccome questa comunità non può permettersi il lusso di parlare del nulla, perché è una grande comunità, è una comunità che può dare tanto ancora ai cittadini stessi e i cittadini possono dare tanto all'intera comunità, io mi soffermo perché la domanda mi è stata fatta e la rispondo. Le periferie. Io sono andato sul quartiere San Valentino, ma... Parlare di periferie, no, scusate, precisiamo perché se no sembra che qui siamo. No, no, calma. Lei nel momento in cui parla delle periferie, io le faccio una domanda sulla periferie, mi sembra elementare, lo capisce anche il più ottuso dei telespettatori, che lei parlerà di quello che è il programma del professor Fortunato per le periferie, per andare a colmare ciò che evidentemente, secondo la vostra testa, non ha fatto Giorgino. Quindi non è che dobbiamo parlare di quanto è simpatico Giorgino. No, assolutamente, assolutamente. Allora, ci dica cosa intendete fare. Sì, uso anche una forte determinazione perché io penso che la politica oggi sia per il 90% ipocrisia e quindi noi dobbiamo cominciare a cambiare il volto della politica. Se non riusciamo a cambiare il volto della politica, continueremo a dare le colpe uno a uno e uno all'altro. Bisogna vedere la realtà dei fatti. Basta andare in periferia dove l'anno, cinque anni fa, Giorgino ha preso il massimo dei voti al quartiere San Valentino, quello che ha promesso e quello che ha consegnato. Lui fa vedere una parte, anzi fa vedere solo una piccola immagine, che è quella relativa all'attenso struttura, io invece col mio spot vado e faccio vedere il quartiere San Valentino. Addirittura io vado e mi accorgo delle strade che hanno dei dislivelli, mi accorgo praticamente dei prati e delle erbacce che raggiungono una determinata elevatura, mi accorgo praticamente, pozzangre, mi accorgo scuole addirittura con l'insegna distrutta come se nulla fosse. Cioè è come se quella non fosse una scuola da curare, una scuola da dare anche l'immagine per i bambini che attraversano il cancello e entrano nella scuola. Io cosa ho detto, professor Fortunato? Ho detto che noi non dobbiamo fare la stessa cosa. Nel momento in cui disponiamo di un parco di dipendenti che si chiama Multiservice ad Andria e che hanno delle grandi capacità, abbiamo persone che si possono occupare delle strade, persone che si possono occupare dell'illuminazione, persone che si possono occupare della cura dell'ambiente, noi come prima iniziativa che faremo insedieremo una buona parte di quei dipendenti della Multiservice a rivoltare le periferie. Noi li dedicheremo, quelle persone, per un mese, 30 giorni, 40 giorni perenemente su quelle periferie per voltare, per dargli un voto diverso. Questa vuol dire operatività. Non vuol dire parlare in campagna elettorale e invece poi dimenticarsi delle periferie e inaugurare sotto la campagna elettorale. Io penso invece che il quartiere San Valentino abbia notato, così come le altre quartiere, io ad esempio domenica ho fatto anche l'inaugurazione del mio comitato nel quartiere Lama Paola, che io ritengo sia la zona La Specchia, ritengo sia una parte della periferia e dove ho visto la tanta partecipazione della persona proprio con questa voglia di dire ma come mai non ci ricolleghiamo alla città. Ricollegare vuol dire metterli in sistema, vuol dire dargli la possibilità anche attraverso ad esempio le piste ciclabili di arrivare a San Valentino. Invece cosa facciamo? Facciamo la pista ciclabile che si attorciglia attorno a se stessa, che dà solo un verso e non ha invece il ritorno, ma che non ripercorre le periferie. La pista ciclabile sarebbe opportuna proprio per questo. Sarebbe opportuno cominciare così come hanno fatto a fare quella strada che ricuce la zona del quartiere Lagnone-Santa Croce con il rione San Valentino, ma che poi è rimasta per cinque anni lì ferma, addirittura con attrezzature edilizie ancora lì ferme bloccate. Ma come facciamo a ricucire queste periferie? Allora noi dobbiamo essere concreti, non i fatti. L'apparenza non serve, caro direttore, qui serve la sostanza per questa città. L'apparenza ne abbiamo data tante in cinque anni. Dopo cinque anni io avevo pensato di fare anche uno spot dove Giorgino cinque anni fa si riposava e oggi si risvegliava d'incanto perché si accorgeva che ha dormito per cinque anni. Io avevo pensato di fare questo, poi non sono riuscito a trovare l'immagine di Giorgino, altrimenti l'avrei fatta. L'immagine di Giorgino che dorme. L'immagine di Giorgino che dorme, sì, che dorme perfettamente nel letto, perché questa è la sua immagine. Oggi Giorgino si accorge che stanno scadendo i tempi e si permette di fare, diciamo, umiliando la dignità di ogni cittadino, si permette di fare inaugurazioni. Quindi noi partiremo dalla cura delle periferie mettendo volontà e operatività. Abbiamo il personale per dedicare alla ricucitura e al rifacimento dell'intera periferia andriese. Questo sarà il nostro impegno e promessa. Greener, la campagna elettorale è partita su una polemica sui conti, va bene, e sui rilievi della Corte dei Conti, abbiamo sentito i numeri, con delle grandi differenze. Cioè non è che uno dice 100 euro e l'altro dice 110, no, cioè se uno dice 100 euro e uno dice 10.000 euro, cioè siamo... Allora, qual è la situazione reale dei conti del Comune di Andrea? Perché non si può passare da 3 milioni di euro a 50 milioni di euro, a seconda di chi... Eh, o addirittura di più. 60 milioni di euro. Addirittura, guardi, purtroppo abbiamo assistito, anzi i cittadini andriese hanno assistito in questi ultimi mesi a questo teatrino che questa amministrazione di Giorgino ha messo in campo, e cioè quello di mistificare, voglio dire, e ribaltare o quantomeno dare dei propri numeri su quella che è la situazione finanziaria del nostro Comune. Io non voglio e non mi sono mai voluto dilungare nelle quantificazioni che all'idea e a vista dell'opinione pubblica possono essere sempre ritenute di parte, d'accordo, a seconda di chi li dà, va bene? Ma voglio soltanto richiamare e sarebbe interessante sentire soltanto i fornitori del nostro Comune, va bene? Nel momento in cui i nostri fornitori, va bene, lamentano, a ragion veduta, una dilazione dei propri pagamenti ad oltre un anno, questo solo elemento, va bene, senza scomodare numeri, senza scomodare nessuno, ci dà già la percezione di quella che è la situazione finanziaria del nostro Comune. L'intervento della Corte dei Conti, che è avvenuta nei mesi scorsi, ha soltanto sancito e ribadito una situazione finanziaria che ormai l'opposizione, il Partito Democratico, lo stava ribadendo con altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale, lo stava ribadendo già da anni. E ieri sera, che è stato approvato il rendiconto del 2014, c'è stata la certificazione del dissesto finanziario del nostro Comune. Lo ha ribadito, perché ho partecipato come uditore, lo ha ribadito lo stesso dirigente del settore finanziario, che in maniera onesta ha confermato la situazione molto critica, da un punto di vista di liquidità finanziaria, del nostro Comune. Quindi è sotto gli occhi di tutti questo tipo di discorso. E lo stiamo verificando attraverso anche l'interruzione di appalti. Noi abbiamo una pista ciclabile che non è stata ancora completata, seppur, voglio dire, nella grande approssimazione con cui è stata realizzata, non è ancora completata, perché il fornitore che ha vinto l'appalto per sistemare i cordoli della pista ciclabile ha detto che se non mi pagate io non continuo a realizzare l'opera, così come anche altre opere ferme. Quindi questa situazione è già una istantanea della situazione finanziaria del nostro Comune. Le mie parole possono essere considerate di parte, nel momento in cui continuiamo ancora a fare un rimpiattino delle cifre. Ma la situazione oramai è sotto gli occhi di tutti. Quindi noi dobbiamo rimettere in una programmazione finanziaria corretta di tutta la prossima legislatura i conti in ordine. Questo, come le dicevo prima, è uno degli aspetti che è mancato a questa amministrazione. Cioè non avere un'idea della città, anche da un punto di vista finanziario. Perché guardi, il momento in cui il cittadino paga un tributo, una tassa, di fatto non è soltanto un suo obbligo, va bene, costituzionalmente previsto, ma è anche il ritorno di fiducia ad una classe politica attraverso il gesto del pagamento del proprio tributo. Se non si ricuce questo rapporto di fiducia con il cittadino, noi non possiamo immaginare di andare avanti. È normale che il cittadino, nel momento in cui si è visto raddoppiata la propria tassa dei rifiuti e ha visto che quell'appalto che ha portato ad un raddoppio della tariffa è stato oggetto di arresti di amministratori comunali, come può il giorno dopo, alla scadenza, andare a pagare un bollettino? La prima reazione che ha è quella, cioè quella di non pagare. Quindi dobbiamo ricucire quel rapporto di fiducia tra una classe politica che amministra una città e i nostri cittadini. Vurchio, lei insiste su cifre importanti di Sesto. Se sono tali, la prossima amministrazione comunale, qualora dovesse vincere il professor Fortunato, da dove riparte? Come dovrà affrontare una situazione del genere? Greener inserisce un elemento rilevante come stabilire un rapporto fiduciario, ristabilire un rapporto di fiducia con il cittadino in funzione di una riduzione anche dell'evasione fiscale. Ma questo è sufficiente? Allora, io voglio aggiungere perché io ho ancora vissuto un altro momento di demagogia di questa amministrazione. Ieri nel rendiconto finanziario 2014 ho esordito e poi rispondo subito. Ho esordito alzandomi e chiedendo naturalmente al sindaco, al segretario generale, all'assessore, al dirigente, facendo una semplice domanda. Ho detto, scusate, noi stiamo approvando il rendiconto 2014. Secondo voi, non avendo ancora la Corte dei Conti annullato definitivamente, perché accolto parzialmente, sappiamo che questo significa parzialmente, cioè può dire tutto o vuol dire niente. E siccome non abbiamo ancora, abbiamo solo il dispositivo, quello riepilogativo, ma non abbiamo l'intera sentenza, nessuno ancora l'ha visto, non so se l'ha ricevuto il Comune e non ce la vuole comunicare. Comunque resta di fatto che il 2014 è propedeutico al 2012 e al 2013. Quindi, se il 2012 presenta delle difficoltà che si sono ripercorse sul 2013, automaticamente le avremo nel 2014. Allora, a questa mia domanda, lei rimarrà forse alibito, nessuno ha saputo dare, anzi, ci sono state diverse risposte, uno diceva che non aveva nessun senso pensare al 2012, un altro diceva forse sì, forse no, un altro diceva ma guarda, forse stai strumentalizzando. La realtà invece, alla fine, è che abbiamo capito che il 2014 dipende dal 2012, ma perché il bilancio è fatto di numeri che si chiudono alla fine dell'anno e iniziano nell'anno successivo. Allora, ieri, se noi abbiamo approvato questo rendiconto senza sapere il passato, può darsi pure che questo altro rendiconto è un'altra barzelletta che stiamo dicendo, anche perché questo rendiconto si chiudeva con un piccolo avanzo di amministrazione e soprattutto con quei residui passivi che rispetto agli anni precedenti, sono triplicati rispetto a qualche anno fa, cioè nell'anno, due anni fa erano erano praticamente pari, se andiamo sul tecnico ci cambia. Bravissimo, no, 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 erano 30.000 adesso sono 50, il tecnico dice che se due anni fa io ci avevo da incassare 10 e oggi ne ho da incassare 5, vuol dire che quello che avevo da incassare si è ridotto, ma automaticamente se fino a ieri avevo da pagare 10, oggi devo pagare 50, quindi automaticamente il debito è aumentato, quindi infatti i residui passivi erano 53 milioni. Ora, questa cassa che sono 30 milioni di corrente, quindi è un debito di 30 milioni di cassa corrente, poi il resto sono derivanti da investimenti e raggiungiamo quasi una cifra di 60 milioni di Euro, non diciamo frottole, se andiamo sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze troviamo il Comune di Andria che c'è da pagare fino a poco tempo fa, c'erano addirittura 4 milioni e 6 di pignoramenti e invece sono stati tolti, ho visto pochi giorni fa, ho vedevo la stampa sul sito Siope, troviamo 56 milioni di Euro ancora da pagare del Comune di Andria, come richiesti di anticipo alla Cassa Depositi e Presti. Come facciamo a risolvere il problema mi ha chiesto? Dobbiamo cominciare a capire che le spese improduttive non servono a niente, nel reddiconto di ieri le spese improduttive di questo Comune sono aumentate del 30% soprattutto quello relativo all'investimento sulle autovetture, infatti i revisori dei conti hanno detto ma scusate non ci sono soldi, dite che il Governo centrale vi tagliano le entrate e poi alla fine cosa fate? Vi permettete di spendere il 30% in più per quelle spese che non hanno poi un ritorno in termini di valore aggiunto sulla comunità. La seconda cosa, noi diamo la premialità alla Sangali di 8 milioni di Euro, questa 8 milioni di Euro la Sangali non la deve avere più perché la premialità la dobbiamo ridistribuire al cittadino andriese ed è anche questa un'altra forte novità del nostro programma, noi nel nostro programma dovremmo cercare di far restituire ai cittadini quella tassa che sta pagando per tre volte rispetto al passato e di questo ci impegneremo con il Professor Fortunato affinché ci sia una restituzione ai cittadini. Terza cosa, molti costi inutili, se lei prova a immaginare quante volte abbiamo fatto le proteste sul bike sharing, un bike sharing dove noi paghiamo 6.800 Euro al mese per biciclette che non vediamo, 6.800 Euro al mese, dal 2011 sappiamo quanti soldi sono stati sprecati per il nostro comune, nonostante facciamo le sollecitazioni, il signor sindaco fa finta che noi non gli diciamo nulla, il signor sindaco spende 12 mila Euro all'anno più IVA per tenere il ponte Bailey sul quartiere Carmine, oltre ai costi di manutenzione che sono eccessivi, quando in realtà poteva essere eliminato e quei soldi potevano essere distribuiti ad altre cose. Il signor sindaco non si rende conto che abbiamo un software che interagisce tra i vari settori, quindi non c'è comunicazione, tra i settori più importanti, come fa a combattere l'evasione, se noi abbiamo ancora un sistema obsoleto dal punto di vista del software, addirittura escono fuori avvisi e bonari intestati ai defunti, ma scusatemi, ma vi rendete conto che non c'è un collegamento fra comune, catasto, fra ufficio finanze e quindi come facciamo a far emergere l'evasione? Mandando avvisi bonari inutili, giusto per fare movimento e diciamo lo specchietto come si dice per gli allodole e soprattutto una riorganizzazione della macchina amministrativa, se l'ufficio, uno su tutti, l'ufficio edilizia privata, rilasciato nel 2014, 14 pareri, licenze a costruire, ma ci rendiamo conto su un territorio come Andra rilasciare 14 pareri? Perché tutto è imballato, quell'ufficio non produce denaro per il nostro comune, quando in realtà l'ufficio edilizia privata è uno degli uffici che potrebbe produrre di più, quindi attenzione all'evasione, dare più sviluppo all'edilizia attraverso l'esistente, non dobbiamo fare altro, l'esistente, l'edilizia può tornare a lavorare, riduzione dei costi improduttivi, si possono fare tante cose. Bene, su queste tante cose ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, poi torneremo a parlare con i nostri ospiti di quello che è il programma del centro-sinistra, in particolar uno del Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative del Comune di Andria del prossimo 31 maggio, tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista a candidati al Consiglio Comunale di Andria del Partito Democratico, partito che insieme ad altre cinque liste sostiene quale candidato sindaco il professor Sabino Fortunato. Lorenzo Marchio, alla fine, alla luce di quello che è stato detto nella prima parte della trasmissione, di quelle che, stando a ciò che dite è la condizione economica anche, del Comune, da dove dovrebbe ripartire un centro-sinistra che vince le elezioni? Da dove deve ripartire? La prima cosa è stata detta prima, deve ripartire sicuramente da risanare i conti del Comune, deve cercare immediatamente di non far aspettare le piccole e medie imprese che lavorano nel Comune per incassare un credito agli 8-9 mesi, perché sennò la gente fallisce. Seconda cosa, deve riaprire le porte del Comune, deve ricreare un ufficio finanziario, noi la facciamo una grande polemica, perché ad Andria con l'amministrazione Zaccaro si era creato un ufficio dei tributi che era aperto, si parlava, si discuteva, fu rivoluzionato completamente e noi, una delle prime polemiche che facemmo, dicemmo state smantellando un ufficio, quindi bisogna riavvicinare tutti i cittadini al palazzo di città e poi bisogna cominciare a fare un lavoro diverso. Io sono d'accordo quando vedo una via Regina Margherita, una via Lecrispi dove la gente passeggia, però come dicevo prima, bisogna entrare nei quartieri, bisogna vedere anche lì come stanno le strade e bisogna a quel punto, lo dico, rimediare ai danni che sono stati fatti in questi 5 anni, bisogna cercare che i cantieri che oggi sono chiusi possano riaprirsi, bisogna anche pensare, è stato fatto un accenno prima alla società partecipata del Comune di Andria, dove ci lavorano oltre 100 persone e quelle persone non vanno messe a regime, vanno fatte lavorare nelle periferie dove serve veramente la mano di questa gente, insomma va ridata fiducia a questa città. Io prima ho fatto un accenno, ma giusto un accenno perché poi non voglio uscire fuori tema, anche diciamo alle ripercussioni che può avere l'elezione di Andria nelle altre città e questo è fondamentale perché voi sapete che l'elezione di Sabino Fortunato come candidato sindaco ad Andria condizionerebbe tutta la politica della BAT, politica della BAT che negli ultimi anni, mi lamentavo, è stata condizionata dal sindaco del centrodestra, oggi se Andria, come io mi auguro, come io spero, avrà Sabino Fortunato sindaco, l'inversione non sarà solo nella città di Andria, ma sarà un'inversione di politica a tutti i livelli, a tutti i livelli nella BAT e secondo me si può ritornare a dare dignità alla nostra città e a dare dignità alla nostra provincia e su questo il Partito Democratico ce la sta mettendo tutta. Il Partito Democratico farà una campagna elettorale, come stanno dicendo gli amici, nei quartieri, nelle periferie, nella città per cercare di essere il motore trainante di questa coalizione che possa portare Sabino Fortunato a diventare sindaco di Andria. Ecco, io volevo ricordare che questa è una provincia che ha avuto delle fasi alterne, c'è stato un momento in cui c'erano dieci sindaci su dieci del centro-sinistra, poi si è capovolta la situazione e c'è stata una maggioranza, c'è stata sin a qualche tempo fa una maggioranza di sindaci di centro-destra, adesso potrebbe modificarsi nuovamente per se a Trani vincesse Bottaro come auspicano i nostri ospiti e ad Andria vincesse Sabino Fortunato più Spina passato al centro-sinistra ci sarebbero, diciamo, si diventerebbe addirittura 7 a 3. A conferenza dei sindaci è fondamentale sia nelle gestioni della provincia, il mio sogno è quello, io spero di vincere al primo turno, però se ciò non dovesse accadere io mi vedo già il palco in campagna elettorale con Sabino Fortunato, Amedeo Bottaro, i due consiglieri regionali di Barletta e il consigliere regionale di Andria che spingono Sabino Fortunato verso la vittoria. A proposito, visto che c'è stato questo cenno alle elezioni regionali, con i candidati al consiglio regionale si sta trattando molto l'argomento dell'agricoltura, perché tutti sono concordi nel dire che soprattutto per la provincia di Barletta Andria Trani il settore agricolo è uno di quelli su cui bisogna assolutamente puntare per tutta una serie di fondi che ci sono e che ci saranno nei prossimi anni a sostegno di questo comparto. Quindi al di là dello sviluppo turistico, di tutte le cose, di tutti i settori di espansione che dovrebbero risollevare la situazione generale, dare una maggiore occupazione, quello che il settore primario, che poi diciamo è la nostra origine, dovrebbe tornare ad essere protagonista, considerando che sia per ciò che riguarda l'ortofrutta, sia per ciò che riguarda l'olio, la provincia di Barletta Andria Trani rappresenta da solo il 50% dell'intera produzione pugliese. Allora, siccome lei vive il settore, le voglio chiedere, al di là di quello, cioè il compito della regione diventa fondamentale. Ma le singole amministrazioni comunali che cosa possono fare? Allora, il compito della regione, innanzitutto i primi due compiti importanti da attuare immediatamente sono, primo, il piano Xilella. Noi dobbiamo cercare di capire, da imprenditori agricoli, perché il ministro Martini un mese fa è venuto, ha presieduto un convegno, ma alla domanda a che punto è la ricerca, ci ha detto, siamo in attesa dei dati. Siamo in attesa del nulla, non si è trovato ancora. Quindi io credo che innanzitutto bisogna subito costituire un contatto diretto con i produttori. Cioè, io se dovessi chiedere a un produttore, ma mi saprebbe dire l'attacco della Xilella, da dove inizia, quali sono i primi sintomi della pianta, non lo sanno. Per cui non ci può essere prevenzione se io non so di che cosa stiamo parlando. Quindi, innanzitutto, subito una diretta comunicazione con l'ambiente agricolo. Due, secondo, la regione non deve trascurare che nei fondi comunitari si sta pensando più a investire su questi impianti superintensivi che arrivano un attimino dall'estero. Nel senso, si parla di Arbosana, Arbechina, tutti impianti che non daranno sicuramente quello valore aggiunto alla nostra economia. Perché se noi qui in Italia finanziamo questi impianti che troviamo in tutto il mondo, è chiaro che dovremmo seguire un mercato internazionale. Per cui se l'olio in Spagna costa 2 euro, io impianto qui un impianto spagnolo, l'olio dovrò vendere a 2 euro. Io dico attenzione a quello che si finanzia. Noi dobbiamo finanziare le 500, oltre le 500, monocultiva nazionali. Quindi Andria prima in Puglia, Puglia prima in Italia, attenzione a cosa finanziamo. Perché la nostra tipicità, soprattutto la nostra cultura, la nostra economia, è basata soprattutto su quel poco di buono che noi riusciamo a fare e che gli altri non ci possono copiare. Per cui attenzione anche a questa direzione. Quello che possiamo fare noi a livello più locale. Allora, qui bisogna subito istituire una cabina di energia tra gli operatori. Non abbiamo realizzato un brand, non abbiamo realizzato, io adesso ho uso dei termini un po' più appropriati all'imprenditore, dei brand. Noi non possiamo essere secondi al marchio parmigiano, al Chianti. Noi dobbiamo crearci un brand. Ci vorrà un anno, due, tre, quattro, cinque. Dobbiamo iniziare a investire su questo, fare capire che quest'olio, oltre a essere buono, qualitativamente anche ottimo per la salute, iniziamo a investire con una serie di organizzazioni, giovanili, anche scientifiche, perché qui ci bisogna inserire anche quello che la scienza oggi tutti i giorni ci dice sui giornali. Il nostro olio fa bene, il nostro olio è antitumorale, è un olio che fa bene alla salute. È inserito ormai nel piano agroalimentare mondiale come un prodotto. Però se lei va in crociera, sia su Costa che su MC trova, MSC trova soltanto olio toscano. No, lo dico così, per dire c'è poi alla fine, diciamo, è quello che conta. Allora, noi dobbiamo lavorare da subito nel nostro territorio. Io credo, i numeri sono talmente bassi, noi abbiamo una produzione in Italia di, quando ci va bene, di 3 milioni, ma una media di un milione e mezzo, un milione e mezzo di tutta l'Italia. Togliamo nella metà perché facciamo anche dei lampanti nel Salentone, ne avanzano 700-800 mila, il consumo mondiale supera i 20 milioni, 700-800 mila con un consumo interno di 3 milioni e mezzo, sono niente. Per cui se iniziassimo a valorizzare questi pochi chili d'olio, io ho anche scritto, dovremmo solo aspettare che ce lo vengono a chiedere e magari anche vendolo all'asta, come si faceva una volta col tartufo, che quando il tartufo è stato, come dire, presentato, nessuno lo voleva, a nessuno piaceva. Quando abbiamo capito che tipo di prodotto era, oggi quello è un prodotto che, essendo un prodotto di nicchia, non ha più prezzo. Il nostro prodotto è talmente poco, fa talmente bene, che se iniziassimo noi a spiegare al mondo che questo olio non è come tanti altri, noi dovremmo avere la fila nella BAT, soprattutto nel Norbarese, dove facciamo il miglior olio del mondo, a chiederci ma perché non ce lo volete vendere? Perché vogliamo capire a chi venderlo, perché dobbiamo prima usare questo prodotto per un consumo interno, perché noi, con 3 milioni e mezzo di consumo interno, i 700-800 mila quintali che noi facciamo, servirebbero solo a noi e ai nostri figli. A me piaceva molto una battuta di Michele Pirabella che diceva che l'olio fatto con la Cultivar Coratina è il migliore del mondo, tra i migliori della Puglia. Allora, siamo in conclusione. Vurchio, perché dovrebbero votare per Sabino Fortunato? Perché dobbiamo ripartire dalla serietà. Una politica seria può venire fuori solo se sono i personaggi che incarnano il modo di fare politica delle persone serie. Io penso che Sabino Fortunato, che ho preso con molto piacere la sua volontà, anche se inizialmente è stato un po' non ha accettato da subito, fino a che non ha visto la coalizione di centro-sinistra unita, dopodiché vedo l'entusiasmo che porta. Quell'entusiasmo che non lo porta soprattutto a passeggiare al centro, quell'entusiasmo che sta portando andando a trovare tutti i suoi amici, andando a trovare gli amici addirittura di scuola, trovando le periferie, a noi ci sta ancora dando quello sprint in più per poter fare in modo che la nostra città possa cambiare modo di gestire la politica. Perché dovrebbe votare? Perché, ripeto, abbiamo un programma molto serio, trasparente, un programma che deve puntare al risanamento dei conti non tassando il cittadino, non tassando il cittadino, anzi noi dobbiamo impegnarci a restituire la tassa dei rifiuti che stanno pagando ingiustamente i cittadini, ma attraverso un programma di abbattimento dei costi improduttivi che per questi anni c'è stato un spendi e spandi in generale, senza aver cura di quelle che sono le casse comunali e quindi delle tasche dei cittadini. Questo è il nostro programma, un programma serio che riparte dalle periferie e che ci porta naturalmente a valorizzarle non come periferie, ma riportare, io un mio spot, un mio slogan è riportiamo al centro le periferie, cioè al centro dell'attenzione, al centro, diciamo, dello sviluppo, al centro dell'economia e soprattutto dobbiamo ripartire, che ho dimenticato prima, per abbattere anche il forte deficit delle casse comunali di Andria da quella politica ricettivo-turistica che non viene fatta nel nostro territorio, quella politica che deve partire dallo sviluppo del Castel del Monte, come un bene il terzo più visitato al mondo non può rimanere così buttato lì e senza portare un valore aggiunto in termini economici sul nostro territorio. Il turista che arriva a Castel del Monte, il terzo più visitato al mondo che arriva a Castel del Monte non viene ad Andria, il turista che arriva a Castel del Monte non alloggia in un hotel andriese, non viene a consumare in un ristorante andriese. Quindi noi dobbiamo partire proprio da questa sinergia con pacchetti turistici che portano il turista a visitare quelle che sono le nostre bellezze artistiche e che abbiamo sul nostro territorio. Troiano, perché dovrebbero votare Fortunato? Fortunato, perché ne dica il centro-sinistra, il centro-destra, è una persona super impegnata, è una persona che sicuramente secondo loro non darà il tempo necessario a queste città. Invece io dico esattamente il contrario. Il contrario è che quando una persona come Sabino Fortunato si presenta in politica nonostante quello che lui fa già, gli impegni, gli incarichi che ha già lasciato per dedicarsi alla città, è una persona ad ammirare. Io dico sempre, le persone che hanno nella vita un'esperienza, e Fortunato ne ha veramente tanta da vendere, si mette a disposizione della città non dovremmo solo pregarla, ma dovremmo accoglierla, perché secondo me l'esperienza che lui può dare a questa città sia sul risanamento del debito, perché sappiamo tutti è un professore universitario di economia, sia per la sua esperienza e sia per la sua professionalità e serietà, diciamolo pure, è una persona che è sempre stata ad Andria, viene da una famiglia numerosa, conosciamo tutti anche la sua famiglia molto 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 conosciuta in città, la sua esperienza, la sua conoscenza sul territorio, sulla città, a me personalmente e credo anche a tutti i cittadini, ha dato una grande fiducia. Io lo voto soprattutto perché è una persona che non sarà carismatica, non dirà troppe frottoli in giro, non andrà in giro a fare promesse, ma proprio per quello io la voto, perché è una persona che a primo impatto mi ha trasferito una serietà, ma soprattutto una serietà che non trovo negli altri candidati. Marchio, tutti amici a sostegno di Fortunato, però qui c'è anche una competizione tra le liste, e allora perché dovrebbero votare per il partito, dovrebbero scegliere, una volta scelto Fortunato, perché dovrebbero votare per il Partito Democratico? No, io mi auguro che il giorno dopo le elezioni il Partito Democratico abbia, e poi arrivo perché lo dovrebbero votare, abbia un grande successo, perché lei mi insegna, direttore, è difficile che una coalizione di centro-sinistra vince se il Partito Democratico non ha un grande successo. Non si può prescindere, diciamo. Non si può prescindere. Poi per quello che dicevamo prima, perché il Partito Democratico ha, in questa battaglia elettorale, ha cercato di mettere in campo le sue, in un momento difficile, tutte le persone che si sono volute misurare in questa battaglia. Io sono contento di quella lista, penso che è una lista che si può imporre, e le lo dico di più. Io non sono, sono uno per, sicuramente per il cambiamento, sono uno per l'innovazione, però avrei preferito che nel Partito Democratico, in questa battaglia difficile, in questa battaglia importante, perché l'abbiamo detto tutti, la città ha bisogno del cambiamento, dovevano tutti quanti impegnarsi per fare una lista forte. Oggi c'è una bella lista, ci sono delle belle persone, e io penso che per rispetto al Professor Fortunato e a queste persone, che in un momento non facile ci hanno messo la faccia, i cittadini devono votare per il Partito Democratico. Greener? Il Partito Democratico è un punto di riferimento nel panorama nazionale, regionale e comunale. ad Andria abbiamo, stiamo ripartendo con il Partito Democratico e con l'intera coalizione di centro-sinistra nel far ritornare una dignità e ridare una dignità all'intero elettorato del centro-sinistra. È stato mortificato non solo il nostro elettorato, ma l'intera cittadinanza, l'intero elettorato da questi cinque anni di amministrazione di centro-destra. con Sabino Fortunato e anche con il nostro candidato alla regione, Sabino Zinni, vogliamo ridare una vera dignità al nostro territorio, alla nostra città. È una città troppo importante per poter essere considerata una cenerentola della BAT, ma anche a livello regionale. Ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo risultato. Sicuramente entrambi questi due obiettivi, comunali e regionali, non possono prescindere da un importante apporto del Partito Democratico, che deve diventare per il prossimo futuro il partito di riferimento, non soltanto per le persone, ma da un punto di vista valoriale e anche di iniziative che possano far identificare tanti elettori in questo progetto politico che sicuramente sarà vincente il 31 maggio. Bene, credo che possiamo fermarci qui. Io ringrazio Antonio Grinier, Giovanni Burchio, Giovanni Troiano e Lorenzo Marchionossi per essere intervenuti nella nostra trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consuetta. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consuetta.